Bella a tutti ragazzi e ben donati in questo nuovissimo video, sono GabboGamer Oggi andremo a fare il settimo episodio della GabboCraft L'episodio che tutti voi stavate aspettando Io direi di fare delle scale come prima cosa perché... Non sa che devo fare così Ok raga... Sì! Raga, sono riuscito a fare solo 6 scale Proprio per questo non credo che basteranno No, se bastano, giusto, giusto Sì, basta che faccio un mini salto Però raga, io direi di iniziare a preparare la nostra nuova casa Col prendere tutta la roba dalla vecchia casa e metterla nella nuova Non sarebbe successo questo Ok, fornace Abbiamo preso tutta la roba, tranne il letto Mannaggia me E questo adesso diventerà il nostro magazzino Pasqui Gamer, nello scorso episodio, nei commenti Ha chiesto di... Di andare alla ricerca dei diamanti Per poi costruirmi tipo un'armatura E roba del genere Ah, piazzata qua per sbaglio Allora Preparazione della nostra casa Ovviamente è semplice È come la vecchia Solo che è nuova Visto È come trasferirsi da un appartamento all'altro Per il momento questa è l'impostazione Però andiamo a dormire e ci vediamo quando è mattina Bella Qui è mattina Ok raga Io adesso vorrei fare un poco di spazio dietro alla casa Così qua Ci posso mettere Forse altre cose Però ora Io direi di... Ah, la pala raga Abbiamo rotto la pala Quindi ne dobbiamo fare una nuova A sto punto la faccio pure in ferro Ok raga Eccomi qui Ho finito questo lavoretto Tra virgolette Allora Adesso Ci manca da fare Il pavimento in pietra Perché così lo voglio fare Oh Che bello Ha rotto il pietra Un fatto di design raga Un fatto di design Non voglio averla brutta la casa Deve essere carina Raga Mi sa che nel prossimo episodio Farò un altro piano Alla casa Eh raga Abbiamo finito di fare la nostra casa E adesso Ci mancano Le scale Non solo due Ok Raga Ecco la conclusione Io direi Con gli ultimi momenti di vita Di questa pala Andiamo a prenderci Della sabbia Perché Quello è quello che serve Raga Bam No Ecco Mo si è rotta Io direi Di Scalarlo a mani Ora Direi di mettere a fare la sabbia E di svuotare un po' Il nostro inventario Qui abbiamo tutti i miei arbusti Che ho raccolto nei precedenti episodi Davanti alla casa Raga Ora prenderò il grano E poi possiamo terminare L'episodio Dopo ho preso il grano Ok raga Io direi che per questo episodio Può essere tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un pollicione in su Farnelo capire E iscrivetevi al canale Se volete vedere altri episodi Della Gabocraft O delle Skywars Che riprenderò a caricarmi Tra poco Quindi Detto questo Ci vediamo al prossimo episodio Bella